Luciano Ligabue Luciano Ligabue Luciano Ligabue nasce a Torrigio, in Emilia Romagna, la sua carriera musicale inizia all'interno di un gruppo, gli Orazio, con il quale suonano la sua città e continua via la lunga gavetta nel mondo della musica È solo infatti nel 1987 che Perangelo Berti decide di pubblicare nel suo sogno di rock and roll una funzione scritta proprio da Ligabue Dopo aver vinto nello stesso anno il concorso terremoto rock, gli Orazio coincidono il loro primo 45 giro, all'interno uno dei grandi successi di Ligabue, Barman Nel 1989 Ligabue si unisce con i clandestini, lasciando la sua prima ferra Nel 1990 nasce Ligabue, il primo LP, contenente Balliamo su Ligabue, con il quale vince il Festival Bar Giovanni Altri due album vengono pubblicati fino ad arrivare al 1994, anno di pubblicazione del quarto disco, contenente a che ora è la fine del mondo Ligabue, Buon compleanno, Elvis e i primi grandi successi.Il definitivo successo però arriva solo dopo qualche anno, rinnovando nuovamente la band e pubblicando Buon compleanno, Elvis Sono oltre un milione i dischi di Ligabue. A certe notti vince il premio tempo per la migliore canzone di Ligabue Alla carriera di cantautore si affianca anche quella di scrittore ed è così che, raccontando il suo territorio migliore, pubblica fuori e dentro il borgo, che soddisfa anche il gusto della crisi Da alcune vicende raccontate nel suo libro si sviluppa qualche anno dopo, nel 1998 La sceneggiatura del film Radio Freccia, con Stefano Accorsi e Francesco Buccini, che si aggiudica tra i nostri d'argento e due David Di Donatone, nel 2004, sempre al cinema È l'anno del suo secondo film, da 0 a 10.Gli ultimi anni della sua incredibile carriera Il nuovo disco nel 1999 Miss Mondo conquista i primi posti in classifica e dà il via alla serie di concerti nei palasport di tutta Italia Nel 2004 Liga 2 è nuovamente in libreria con un nuovo romanzo, La Neve se ne frega Dopo il grande successo Gli Ostacoli del Cuore, cantato assieme a Belisa nel 2006, nel 2007 esce il primo Greatest Pits del cantautore Il 2010 è l'anno di un nuovo disco, Arrivederci, vostro! e di un nuovo film, Niente Paura, Come Siamo, Come eravamo e le canzoni di Luciano Liga 2 Altri album inediti vengono pubblicati nel 2013, Mondo Visione, e nel 2016, Made in America L'8 marzo di quest'anno è uscito il suo ultimo disco, Star, che è già diventato in poche settimane disco di film Dal 2013 Liga 2 è sposato con Barbara Pozzo dalla quale, nel 2004, ha avuto Linda, la sua seconda figlia Questa sera Luciano Liga 2 sarà ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo che fa? Grazie a tutti!